Buon pomeriggio a tutti, bentornati e benvenuti qui sul mio canale, se ancora non l'aveste fatto io vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Nella giornata di ieri si sono conclusi i secondi turni per quanto riguarda il tabellone maschile e quindi oggi al via il terzo turno. Terzo turno che vede protagonisti ben quattro azzurri, Lorenzo Musetti, Yannick Sinner, Matteo Ornaldi e Flavio Cobolli. Sono in totale 32 i tennisti che sono rimasti per provare a contendersi la vittoria finale del quarto torneo del grande slam dell'anno. Andiamo ad elencarli e andiamo a leggere tutte le sfide che sono in programma tra oggi e domani. Abbiamo parte alta del tabellone Sheldon Tiafue, Popperin contro Novak Djokovic. Insomma, 32 tennisti e salta subito all'orecchio credo che manchi all'appello uno dei protagonisti assoluti, ovvero Carlos Alcaraz. Alcaraz che è stato eliminato nella notte da Van de Zanschup e quindi prima sorpresa, diciamo, eclatante di questi US Open. Sì, va bene Zizipa si è eliminato, va bene Tabilo, va bene Auger Aliasin, va bene chi altro, qualche altro tennista, ma insomma la vera sorpresa è stata l'eliminazione così prematura di Alcaraz. Cosa cambia nel torneo di Sinner? Ma soprattutto cosa cambia dalla parte del tabellone di Alcaraz? Perché intanto Alcaraz era nella parte alta del tabellone dove c'era Jannik, i due si sarebbero potuti incontrare in semifinale per un remake della semifinale vinta dallo spagnolo alla Roland Garros, così non sarà e da quella parte si apre una voragine. Perché se andiamo ad analizzare, ok, Sinner deve concentrarsi su Oconnell, farò uscire domani mattina il video di analisi dell'avversario di Jannik del terzo turno, poi eventualmente Odialo o Tommy Paul, ma poi dovrà concentrarsi ipoteticamente su Daniel Medvedev, nella speranza che Kobolli lo possa fermare. Poi sì c'è Borges o Mensik, ma credo che Medvedev abbia tutte le carte in regola per essere il giocatore che affronterà Jannik ai quarti di finale. Però dal quarto opposto, come possiamo vedere, abbiamo Van de Zalschup contro Jack Draper, Goffin contro Maciak, De Minor contro Evans e Arnaldi Thompson. Insomma, sono otto tennisti che hanno l'opportunità, uno di loro sarà sicuramente in semifinale. Già questo è un qualcosa di assurdo perché di lì c'era Zizipas, c'era Auger Alassim e c'era Alcaraz, quindi sono caduti tutti. Ora, il mio favorito tra questi nomi è Jack Draper, che se la vedrà contro l'olandese che ha eliminato Alcaraz, sarà lanciatissimo Van de Zalschup, quindi non sarà un match semplice per il britannico, ma Jack Draper secondo me può spingersi fino alle semifinali. Per me è il candidato ideale per maturare definitivamente e soprattutto per ottenere un risultato di prestigio, perché insomma una semifinale penso che per tutti questi che ho appena citato fosse utopia alla vigilia. Però attenzione anche a David Goffin contro Maciak, che è un altro che aveva indicato alla vigilia come uno che poteva fare strada, Goffin semifinalista a Winston Salem, sconfitto da Lorenzo Sonego, però sta facendo molto bene, con Maciak mattatore di Fabio Fognini, il ceco se la gioca, vedo favorito appunto il giocatore della Repubblica Ceca, però attenzione a David Goffin, tutti questi possono arrivare in semifinale, ripeto. De Minor Evans, grande partita, Evans ha fatto il record con Kachanov del match più lungo della storia degli US Open, incontro De Minor, sarà una sfida non scontata, credo che l'australiano potrebbe avere la meglio, però attenzione, e poi Arnaldi Thompson, grande occasione per Matteo Arnaldi, è vero che già Jordan Thompson non è un giocatore inferiore ad Arnaldi, quindi la sfida è un 50-50, però chi passa? Poi con De Minor e Evans se la gioca, è vero che poi bisogna vincere anche con Draper, Van de Zalschip, Goffin o Maciak, però insomma si percepisce come ci sia l'opportunità, ci sia l'opportunità da quella parte del tabellone di fare un qualcosa di importante, Arnaldi deve pensare una partita alla volta, intanto sotto con Thompson e poi insomma De Minor, Evans, vedremo, io indico Jack Draper come semifinalista e i quarti, secondo me vedremo Draper contro Goffin e Matteo Arnaldi contro De Minor, quindi fiducia ad Arnaldi nella speranza che possa veramente centrare un qualcosa di storico per lui e per il tennis italiano. Quindi cosa cambia? Cambia sostanzialmente poco, o tanto, perché è tanto per questi tennisti, però per quanto riguarda Sinner a mio modo di vedere l'ostacolo era rappresentato ed è rappresentato da Daniel Medvedev, ora O'Connell, ripeto, lo analizzeremo domani, ma non credo che sia uno spauracchio così grande per Jannik, Medvedev e Tommy Paul eventualmente agli ottavi stesso discorso, un livello decisamente superiore ma più che nelle corde di Sinner, Medvedev invece ha un grosso punto interrogativo che continua a ripetere dall'inizio del torneo, lo vedo come vincitore finale, staremo a vedere, è chiaro che il quarto rappresenterebbe quasi un passo automatico per la finale, perché poi l'avversario in semifinale sarebbe decisamente inferiore, dall'altra parte per Djokovic, per Zverev non cambia nulla perché saranno loro che se la dovranno vedere con i vari, sì, Rude, Marischelton, Grigor Dimitrov, però i favoriti sono loro per arrivare in semifinale nella parte bassa del tavellone. Però quanto è successo ad Alcaraz nella notte italiana ci insegna che non vanno sottovalutati ma agli avversari e può succedere di tutto, aspettiamoci delle altre sorprese anche in questo terzo turno, insomma l'olandese di certo non era un giocatore quotato, è vero che tra i primi 100 o tra i primi 50 il livello, non dico che si equivalga ma siamo lì, però insomma Alcaraz stiamo parlando di un pluricampione slam, di un giocatore di un ulteriore livello, non possiamo dire che tutti gli giocatori dal 100 all'1 abbiano lo stesso potenziale perché sarebbe una bugia. Si può dire che sì, se uno non è in giornata, se uno mentalmente non è quadrato, non è in palla, può perdere contro chiunque, cosa che è successa ieri ad Alcaraz, però allo stesso tempo non vanno neanche date per scontate allora le vittorie di Sinner contro i McDonnell, contro i Michelson, l'eventuale vittoria contro Connell, perché insomma abbiamo visto quanto basti poco per farsi del male e cadere. Quindi diciamo che per quanto riguarda le mie previsioni, quello che mi aspetto cambia anche poco perché sì avremo un Alcaraz fuori prematuramente, però io avevo detto che in semifinale ci arrivava Draper quindi non mi stupisce molto questo risultato anche se fa abbastanza rumore. Per Sinner, testa O'Connell, eventualmente poi Tommy Paul oppure Daniel Medvedev, chiaramente sorprese permettendo, augurandoci che le sorprese le possano compiere i nostri azzurri, c'è un Kobolli contro Medvedev che proverà a fare la storia, proverà a centrare gli ottavi di finale, credo che due azzurri agli ottavi possiamo già considerare un ottimo risultato, tre sarebbe eccezionale, quattro apoteosi, però oggi testa a Nakashima perché c'è un Lorenzo Musetti che vuole gli ottavi e anche Lorenzo può veramente fare bene dopo la semifinale a Wimbledon, dopo il bronzo olimpico, c'è un Musetti in rampa di lancio. Io ho detto tutto, quindi Alcaraz lo ringraziamo perché ci ha insegnato come non prendere un avversario nettamente inferiore, non bisogna sottovalutare nessuno. Detto questo vi do appuntamento domani mattina per il video di analisi di Yannick Sinner contro O'Connell, il terzo turno del numero uno del mondo, salvo chiaramente sorprese e allora mettetevi comodi e preparatevi che se dovesse cadere qualche altra testa di serie troverete prontamente un mio video qui sul canale. Buona giornata a tutti e a presto!